Pierluigi Leonardi, cittadini per cambiare San Giustino, si torna a parlare di sicurezza dei plessi scolastici? La questione ci preoccupa, Leonardi, perché ci tornate ciclicamente? Che cosa non torna? Non torna che intanto non abbiamo avuto delle certezze per quello che riguarda la antisismicità delle strutture, ci si torna perché in alcune situazioni, vedi per esempio l'ultima riemersa negli ultimi giorni, la scuola media di San Giustino, è veramente fatiscente, oltre ad essere una stabile ormai obsoleto, ha comunque delle carenze proprio dal punto di vista strutturale perché ci sono delle infiltrazioni di acqua, le aule sono veramente piccole, forse non adeguate a quello che è la struttura, quello che la scuola oggi in qualche modo pretende, e sì anche perché ci sono delle manutenzioni ordinarie che vengono rimandate da troppo tempo e che possono creare disagi e stati di pericolosità come appunto nelle ultime situazioni. Siccome riteniamo che quella della sicurezza dei plessi scolastici sia uno degli elementi fondamentali per un'amministrazione che appunto peraltro si vanta di fare tante di quegli interventi e che non procede, se non per ora come solo delle previsioni, nemmeno ad una sistemazione dal punto di vista della manutenzione ordinaria dello stabile. Quindi il nostro è un duplice intervento venuto fuori in emergenza, in una situazione particolare, dove una scolaresca ha dovuto in qualche modo interrompere nell'orario scolastico per far intervenire degli operai comunali visto l'infisso che stava cadendo, che stava cedendo e di cui si è accorto assieme all'insegnante uno dei bambini. Il problema quindi rimane serio, non ci sembra in qualche modo che sia corretto e giusto poter semplicemente rimandare con la situazione del tipo, con la risposta del tipo sono state fatte delle previsioni sugli interventi scolastici, sugli stabili scolastici. Gli interventi sono ora estremamente necessari, devono essere fatti nel breve partendo ovviamente da quelle strutture che hanno una maggiore faticenza appunto dalla scuola media di San Giustino. Senta Leonardo, vorrei cercare di capire, tanta preoccupazione nei fatti potrebbe anche non essere necessaria perché più volte Massimiliano Manfroni, l'assessore dei lavori pubblici, ci ha rassicurato circa la sicurezza dei plessi scolastici del Comune di San Giustino che sono tutti a norma. C'è qualcosa che noi non sappiamo e che voi magari sapete? No, è che un conto è la valutazione che può essere fatta sulla base di documentazioni che sono ormai superate dalla stessa normativa, cosa che sta facendo e continua a fare l'assessore se non poi aggiungendovi anche una presa a visione da parte di tecnici comunali che avrebbero visto anche a vista che non ci sono delle situazioni di particolare pericolosità. Però tutti i nostri stabili non sono a norma per quello che riguarda diciamo i criteri di antisistemicità più moderni, quindi uno dei problemi più seri è veramente questo, la preoccupazione. Poi alla fine se questi dovessero essere a delle perizie veramente accurate, fatte e appunto con delle perizie accertate a noi potrebbe anche star bene. Rimane il fatto che ci sono degli interventi abbastanza seri di manutenzione, ordinaria e anche straordinaria perché se non so se avete visto il piazzale antistante la scuola media di San Giustino è praticamente di fatto tutto demolito dalle radici delle piante pericolosità anche per chi bimbi a parte ma anche adulti dovessero comunque attraversare quel tratto antistante. Un'ultima domanda Leonardo. Detto degli edifici scolastici, a quanto mi par di capire monitorerete costantemente la situazione, voi siete stati anche non troppo critici però abbastanza critici circa la veicolazione del traffico durante l'entrata e l'uscita degli alunni che ricordiamo in alcuni casi è demandata ad associazioni di volontariato e io dico per fortuna che ci sono, però per voi questo non basta. Beh, intanto diciamo che gli edifici scolastici sono posti quasi tutti in una situazione di traffico veicolare abbastanza complicata e complessa che richiede ovviamente una sorta di presenza entrata e uscita dei bambini dalle scuola. Peraltro appunto pur ringraziando queste associazioni, in particolar modo un'associazione del territorio che si va con dedizione, un'azione sostitutiva di quello che è l'opera dei vigili della Polizia Municipale rimane il fatto che a nostro parere potrebbero essere forse meglio considerati, meglio dotati e anche forse meglio formati. Peraltro appunto ringraziando tutto quel volontariato che comunque è l'unica presenza a volte in situazioni di emergenza anche qui forse sarebbe il caso di dar loro una maggiore attenzione in ogni senso ripeto con dotazione, ripeto con considerazione che è importante quanto appunto la dotazione e anche con una sorta di formazione che mi sembra indispensabile dal momento in cui ci si affida a loro proprio per garantire la salute stessa dei nostri bambini, dei nostri ragazzi. Così come, e qui chiudo, sul trasporto scolastico, anche lì avete chiesto maggiori garanzie. Beh certo, anche quello deve riuscire a coprire nel massimo possibile quello che è la realtà territoriale e deve ovviamente rientrare in un processo di formazione perché anche in quel caso noi stiamo ormai ricorrendo da tempo a degli appalti per quello che riguarda la gestione del servizio del trasporto pubblico per i bambini è ovvio che una particolare attenzione vada anche nella formazione degli stessi autisti dei pulmini che devono agire in sinergia appunto con Polizia Municipale ma anche con quegli enti tra virgolette sostitutivi come appunto possono essere i nonni civici nei nostri territori. Grazie. Grazie.